Giochiamo contro l'Inter, che anche se sta attraversando un periodo non brillantissimo, ha sempre l'Inter. Ha delle individualità importantissime, penso che lo sappiamo tutti. Dovremmo stare molto attenti agli uno contro uno, è una squadra individualmente fortissima secondo me, tra le prime della Serie A. Però noi insieme al mister e la squadra stiamo lavorando bene e speriamo che a livello di prestazioni possiamo continuare questa striscia positiva perché secondo me stiamo giocando benissimo. Alberto è un giocatore devastante. Io lo conosco perché quando ero in primavera, quando facevo il settore giovanile della Roma, lui era in prima squadra e già era fortissimo. Sicuramente adesso ha acquisito anche tale esperienza, quindi è un giocatore che può fare la differenza. Per me è importantissimo, essendo romanista, quindi è un derby. Sicuramente è una squadra che è molto forte, con un allenatore preparatissimo. Poi so che è anche importante per il Pescara perché c'è un po' di ruggine diciamo. Però sicuramente cercheremo di portare a casa qualche punto anche con la Lazio perché il nostro obiettivo è la salvezza e prima ci arriviamo è meglio. Ce ne sono tantissimi, Felipe Anderson, non li sto a di tutti perché se no finiamo domani. Però nel complesso loro sono una grandissima squadra, però ce la batteremo.